Il governo ha fatto crack, un cubo di Rubik che non trova più gli incastri politici giusti per completare almeno una, una sola facciata. Dopo che Mario Draghi, che fu salutato come il salvatore della patria, ha rassegnato le dimissioni al Presidente della Repubblica, si va ad elezioni. La crisi dunque sfocerà nel voto anticipato, con possibili ricadute anche sui comuni, in particolare i timori dei sindaci, riguardano le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è preoccupazione naturalmente per le scadenze perentorie del PNRR, che vedrà già a dicembre una verifica da parte del Parlamento e del prossimo Governo e su questo noi continuiamo però a lavorare come amministrazione comunale con i nostri tecnici per la fase progettuale di tutti i progetti che abbiamo in campo. I fondi europei avrebbero dovuto servire a rilanciare l'economia dopo gli anni bui della pandemia e invece ecco una nuova crisi, ancora più aspra, ancora più severa, con il caro energia, con la carenza delle materie prime, con la guerra, con la speculazione. Il Governo cade proprio mentre affrontiamo le onde alte di una crisi sociale ed economica che i sindaci vivono in prima linea. Sicuramente noi continuiamo a lavorare per dare risposta ai nostri cittadini su tutti gli impegni presi. Un'attenzione particolare naturalmente va al sociale in un momento di difficoltà legato anche ai costi energetici e aumento dei prezzi. Altrettanto un momento di attenzione particolare va sui lavori edili, in particolare con l'aumento dei prezzi legato alle materie prime. Stiamo cercando di dare risposta a tutti i lavori continuando in questo percorso di lavoro. Momenti difficili in cui serve stabilità, per questo Francesco Rucco è uno dei sindaci italiani che avevano sottoscritto una lettera con cui si chiedeva a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi. C'è bisogno di un governo stabile, il Parlamento però è sovrano, in Italia ci sono delle leggi chiare e bisogna ridare un governo stabile a questo Paese perché si possano dare le risposte che i cittadini attendono. Grazie. 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 Grazie.